A due anni riusciva a fare semplici calcoli, a nove anni conosceva la matematica delle scuole superiori, a dieci anni ha scritto un articolo con Polerdos, a diciassette anni si è laureato in matematica e a ventuno ha preso il dottorato, è diventato professore ordinario a ventiquattro anni e a trentun'anni ha vinto la medaglia Filz, il Nobel per la matematica. Ma qual è il suo segreto? Ciao, io sono Antonio Di Staso, un matematico convinto di una cosa. Nonostante tutto quello che vi ho appena detto, il genio non esiste. Ed ora vi spiego il segreto dell'uomo più intelligente del mondo. Il video di oggi è dedicato a Terence Tau, un matematico che a guardare quello che ha fatto, e soprattutto quando lo ha fatto, ti si sloga la mandibola dalla meraviglia, ma anche la sua incredibile precocità e prolificità hanno un perché. E il 1975, dopo vent'anni, cessa la guerra in Vietnam. Ad Albuquerque, Paul Allen e Bill Gates fondano Microsoft. In quello stesso anno, dall'altra parte del mondo, ad Adelaida in Australia, nasce Terence Tau. I genitori di Terence Tau sono immigrati da Hong Kong all'Australia. Il padre Terence, Billy Tau, era un pediatra cinese nato a Shanghai. La madre, Grace Leong, è nata da Hong Kong ed era un insegnante di matematica. E già questo è un grande inizio per scoprire il segreto della sua intelligenza. Un papà pediatra ed una mamma matematica. Sicuramente Terence Tau non partiva svantaggiato. I suoi genitori si sono conosciuti proprio all'università di Hong Kong. Da lì, da Hong Kong, nel 1972, decisero di migrare in Australia, una terra dal futuro più sicuro e tranquillo rispetto all'ombra cinese che iniziava ad alleggiare su Hong Kong. Terence Tau ha anche due fratelli più giovani di lui. Trevor e Nigel, entrambi vivono in Australia. Trevor e Nigel hanno tutti e due partecipato alle Olimpiadi Internazionali della Matematica. Hanno vinto addirittura la medaglia di bronzo. Ma il loro fratello più grande, Terence Tau, ha partecipato tre volte all'Olimpiadi Internazionali di Matematica vincendo la medaglia di bronzo a 11 anni, vincendo la medaglia d'argento a 12 anni e vincendo la medaglia d'oro a 13 anni, stabilendo così il record del più giovane vincitore di una medaglia d'oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica. I due fratelli di Terence, però, non sono delle persone tanto comuni. Nigel Tau è un matematico di primo ordine e lavora per Google. Trevor Tau è anche maestro internazionale di scacchi, laureato in musica e compositore. Ma i loro genitori che gli davano da mangiare quando erano piccoli? A leggere bene la loro storia, però, e soprattutto la storia di Terence Tau, ci si accorge che non hanno avuto doni piovuti dal cielo mentre i genitori passavano il loro tempo a guardarli increduli. E no. Il padre di Terence Tau, Billy Tau, aveva portato Terence, proprio quando Terence era piccolo, in giro per il mondo per incontrare alcuni dei più grandi matematici. Voleva sapere se davvero suo figlio avesse un talento e cosa fare per coltivarlo appieno. Terence Tau, grazie all'intuito dei suoi genitori, non ha frequentato scuole normali. A sei anni seguiva un percorso di studio fatto apposta per lui. A nove anni aveva dei tutor privati che lo seguivano nell'apprendimento della matematica. Ecco perché a nove anni già sapeva la matematica del liceo. Altro che genio innato. Dietro ad ogni persona straordinaria, dietro ad ogni capacità incredibile, c'è sempre lo stesso segreto. Tanto, ma tanto, eh. Duro e costante lavoro. E se si ha la fortuna di nascere in una famiglia in cui i genitori appoggiano le inclinazioni dei figli, allora si riesce a fare questo duro lavoro al momento giusto. Ed il gioco è fatto. Uno dei risultati più incredibili di Terence Tau è quello sui numeri primi. I numeri primi sono così elementari e semplici e sono allo stesso tempo così misteriosi. Sembrano imprevedibili. Maledetti. Non si sa mai quando accadrà il prossimo. I numeri primi sono allo stesso tempo ordinati e disordinati. I numeri primi sono spesso finiti nel misticismo e nei rituali religiosi. Hanno ispirato opere musicali, opere letterarie. I numeri primi sono il fondamento dell'universo. Per individuare un numero primo serve solo saper fare le divisioni e contare. Nient'altro. Eppure abbiamo scoperto profonde connessioni tra i numeri primi e la meccanica quantistica. connessioni che restano in spingati. Immaginiamo che esista una civiltà di alieni molto avanzata. Sicuramente non parlano italiano. Forse non hanno nemmeno la televisione. Ma possiamo essere certi che i loro matematici si sono interrogati sui numeri primi. Il lavoro più celebre di Terence Tau è legato alla congettura dei primi gemelli, suggerita dal matematico francese Alphonse de Polignac nel 1849. I numeri primi gemelli sono quei numeri primi separati soltanto da un numero pari, come l'11 e il 13, o il 5 e il 7. Queste coppie di numeri primi gemelli prima o poi finiscono o sono infinite? E Euclide, in una maniera molto astuta, ha dimostrato che tutti i numeri primi, anche se sembrano molti meno dei numeri naturali, sono infiniti. Ma come ha fatto Euclide più di 2300 anni fa a dimostrare una cosa del genere? E Euclide, per dimostrare che i numeri primi sono infiniti, ha messo tutto in discussione. A volte, un modo di procedere in matematica è proprio questo, mettere tutto in discussione. Ah, se fossimo tutti un po' più matematici, non daremmo sempre tutto per scontato. E Euclide si è chiesto, e se i numeri primi fossero finiti? Che accade? Vediamolo. Se i numeri primi sono finiti, li posso tutti scrivere in un elenco, belli tutti in ordine. P1, P2, P3, eccetera, fino all'ultimo PK. Va bene, e allora? Che ce ne facciamo di questo elenco? Li moltiplico tutti fra di loro, così. P1 per P2 per P3, fino a PK. In questo modo ho ottenuto un numero gigantesco, un numero divisibile per ogni numero primo nel mio elenco. E sì, perché l'ho ottenuto moltiplicando tutti i miei bravi e finiti numeri primi. Ricordiamocelo. Stiamo supponendo che i numeri primi siano finiti. Sì, cioè, che i numeri primi siano tutti e soli questi K, non ce ne sono altri. E se io aggiungessi 1 al numero che ho ottenuto? Cioè, prendo tutti i numeri primi, P1, P2, P3, fino a PK. Li moltiplico fra di loro. P1 per P2 per P3, fino a PK, e poi aggiungo 1. Ma così ho ottenuto un numero che non è divisibile per nessuno dei numeri primi del mio elenco. La divisione con qualsiasi numero primo del mio elenco darebbe come resto 1. Eh, ma scusate un momento. Ma allora questo numero, non essendo divisibile per nessun numero primo dell'elenco, è anche lui un numero primo. Ma non avevamo detto che i primi erano finiti e che erano solo tutti quelli dell'elenco? Ma questa è una contraddizione. Allora l'ipotesi di partenza è falsa. I numeri primi non sono finiti. I numeri primi devono essere per forza infiniti. E i numeri primi gemelli? Eh. Terence Tau e Ben Green di Oxford hanno fatto un ragionamento un po' diverso per affrontare il problema. Hanno preso una sequenza di numeri primi separata da un numero fisso di numeri. Non necessariamente un singolo numero come per i primi gemelli. Ad esempio il 7 e l'11 sono due numeri primi separati dal numero 8, il numero 9 e il numero 10. Ci sono tre numeri in mezzo. Tau e Green hanno dimostrato che presa una sequenza di numeri primi separata da uno spazio costante c'è sempre un'altra sequenza più lunga con uno spazio costante tra i suoi numeri primi. Al di là dei tecnicismi matematici, la cosa interessante di questo lavoro è che Tau e Green non si sono inventati tutto di sana pianta. Eh no. Ma scusate, ma che vi pensate? Che un matematico mentre guarda dalla finestra gli viene la botta di genio ed inizia ad imbrattare i vetri con le sue formule astruse. Sì. Per il loro lavoro Tau e Green hanno recuperato una parte cruciale da una dimostrazione precedente fatta da altri che era stata scartata perché considerata errata e tra l'altro mirava ad un obiettivo diverso. Altre mosse poi provenivano da dimostrazioni di altri matematici che a loro volta si erano basati sul contributo di Paul Erdos, Klaus Roth, Frank Ramsey. Avete mai provato a chiedere ad un matematico? Ad un matematico che fa matematica? Avete mai provato a chiedergli? Com'è che lavori? Come fai a tirare fuori le tue dimostrazioni? Scommetto che vi parlerà di un intenso sentimento di cameratismo. Una parte centrale della vita di ogni matematico è questo senso di connessione con altre menti, con quelli vivi oggi, ma anche con i matematici del passato, fino a Pitagora. Ha affermato Steven Strogatz, professore di matematica alla Cornell University. Noi matematici abbiamo questa conversazione che dura da millenni. Nel 2013, Ethan Zhang, un matematico dell'università del New Hampshire, ha dimostrato che esiste un numero infinito di numeri primi separati dal massimo 70 milioni di numeri. Ciò ha dato il via ad uno sforzo mondiale per dimostrare che esiste anche un numero infinito di numeri primi separati da intervalli più piccoli. Finora si è riuscito a dimostrare che esiste un numero infinito di numeri primi distanti al massimo 246 numeri. Ma Tao spera ancora un giorno di ridurre questa distanza a due. Terence Tao è anche uno dei più grandi costruttori di ponti. Non fisicamente, metaforicamente si intende. Però meglio precisare che con Terence Tao non si sa mai. Quando aveva 31 anni, Terence Tao aveva già fatto scoperte con più di 30 diversi collaboratori. Da allora Terence Tao è anche diventato un prolifico blogger di matematica. Nel suo blog celebra spesso il lavoro degli altri, condivide i trucchi preferiti, documenta i suoi progressi e si diretta per eventuali correzioni nei commenti. Ha organizzato sforzi cooperativi online per la risoluzione di alcuni problemi. Adesso immagina di essere intrappolato in una stanza con un leone affamato. Sia tu che il leone siete due punti nello spazio. Supponiamo che il leone possa correre più veloce di te. Supponiamo che tu possa correre più veloce del leone. Oppure supponiamo che tu e il leone possiate correre esattamente alla stessa velocità. Come eviti di essere mangiato? Nella stanza cadde il silenzio. Ricorda Pfeffermann. Quando Bombieri all'improvviso si alzò, alzò le braccia in aria, ruggì come un leone e scherzosamente inseguì Tao per la stanza. Per me, dice Pfeffermann, questo è stato il momento clou dell'intervista. Sono rimasto colpito dal fatto che un bambino di 9 anni potesse trovare idee per un problema di matematica che non era una cosa convenzionale che aveva imparato a scuola. Il professor Charles Pfeffermann, anche lui vincitore della medaglia Fields, ricorda di aver fatto ad un Terence Tao di 9 anni questo indovinello. Questo è un problema che fa parte di un campo della matematica noto come giochi di inseguimento. Nel suo tour, il papà aveva portato il piccolo Terence Tao a Princeton e Pfeffermann, insieme ad Enrico Bombieri di Princeton, erano le persone che lo avevano esaminato e poi avevano consigliato il padre sul da farsi. Un altro importante risultato Terence Tao l'ha raggiunto nel 2015. Nel 2015 Terence Tao ha dimostrato la discrepanza di Erdos. Immagina che qualcuno ti catturi e ti metta sull'orlo di un precipizio. Puoi fare un solo passo avanti o un solo passo indietro, senza cadere e morire. Riesci a costruire una serie infinita di passi che ti tenga al sicuro? Vabbè sì, faccio sempre un passo avanti e un passo indietro, sempre, un avanti, un indietro, così sono sicuro di rimanere sempre nello stesso punto. E se è invece il tuo rapitore a scegliere il tuo terzo passo o il tuo sesto passo? O qualche altro passo numerato per te? E adesso? Se è il tuo rapitore a scegliere un passo per te, esiste una sequenza di passaggi che ti terrà al sicuro? O Lerdos pensava che la risposta fosse no. Che alla fine saresti stato costretto a fare due passi avanti e due passi indietro e boom, giù nel precipizio. O Lerdos pensava che la risposta fosse no, ma non riuscì mai a dimostrarlo. E in matematica un conto è pensarlo, un conto è dimostrarlo. Dal 2010 al 2012 Terence Tao e molti altri matematici hanno provato ad elaborare idee per risolvere il problema, ma senza successo. Tre anni dopo, nel 2015, un matematico tedesco, Stroinski, suggerì proprio sul blog di Terence Tao una connessione. Questo problema della caduta nel precipizio potrebbe avere somiglianze con qualcosa chiamata congettura di Elliot. Una congettura che riguarda, pensate un po', i numeri primi. All'inizio pensavo che il collegamento fosse solo superficiale, ha detto Tao alla rivista Nature. Ma nel giro di due settimane, grazie al suggerimento di Stroinski, Terence Tao era riuscito nell'impresa. Erdos aveva ragione, non importa quanti passi ti sono consentiti, se è il tuo rapitore a scegliere un passo, alla fine cadrai nel precipizio. Ma la storia di Terence Tao non è fatta solo di successi, anzi. Fino a prima dell'università, a Terence Tao, tutto era sempre venuto così facile. Era venuto così facile che non aveva sviluppato buone capacità di studio. Quando arrivò il momento di prepararsi per gli esami generali, Tao trascorse solo poche settimane a sfogliare i suoi appunti abbozzati. Gli altri, invece, si preparavano per mesi. Durante l'esame orale, Tao se la cavò a malapena. Sono stato molto fortunato, ha detto lo stesso Tao. E in seguito, il suo professore, Elias Stein, notò diplomaticamente quanto deludente fosse stata la prestazione di Tao. Nel 2004, Emmanuel Candes, un matematico del California Institute of Technology, stava cercando di trovare un modo per ricostruire le immagini riprese da una macchina per la risonanza magnetica con la minima quantità di dati. Per puro caso, i figli di Emmanuel Candes e di Terence Tao hanno fatto la stessa scuola materna. I due matematici si incontravano spesso portando i figli a scuola. Candes spiegò il suo problema a Tao. No, è irrisolvibile, gli disse subito Tao. Poi, ma giusto un paio di minuti dopo, Tao ammise. Sì, che forse Candes aveva capito qualcosa in più. Il giorno dopo Terence Tao aveva risolto il problema. Da allora, il rilevamento compresso è stato adattato per numerosi usi, come la realizzazione di scansioni a risonanza magnetica più rapida, che rendono le risonanze magnetiche disponibili a più pazienti a un costo inferiore. Quello che oggi più sorprende di Terence Tao è la sua conoscenza matematica, al tempo stesso ampia e profonda. Terence Tao riesce a scrivere con sicurezza e autorevolezza su argomenti diversi, come le equazioni e le derivate parziali, la teoria analitica dei numeri, la geometria delle varietà 3, l'analisi non standard, la teoria dei gruppi, la teoria dei modelli, la meccanica quantistica, la probabilità, la teoria ergodica, il calcolo combinatorio, l'analisi armonica, l'elaborazione di immagini e l'analisi funzionale. Ma come riesce a fare tutto questo? Senza parlare poi del fatto che nel suo tempo libero scrive articoli per il blog e libri. Si pensava che fosse David Hilbert l'ultima persona a conoscere tutta la matematica, eppure sembra che non ci siano lacune nella conoscenza matematica di Terence Tao. Charles Pfefferman, il professore di matematica dell'università di Princeton, che esaminò Tao quando aveva 9 anni, ha affermato se sei bloccato su un problema, una via d'uscita è chiedere a Terence Tao. A questo punto del video vi devo chiedere di prendere un bastone. Ora, ruotatelo. Qual è la regione con la più piccola area dentro cui si può ruotare liberamente il bastone? Il cerchio? Eh, certo. Nel cerchio altroché se si può ruotare liberamente il bastone. Però il cerchio non è la regione con la più piccola area nel lontano 1917. Soichi Kakeya, un matematico giapponese, ha ipotizzato che possa essere questa, la regione con la più piccola area dentro cui si può ruotare liberamente un bastone. Terence Tao ha compiuto enormi progressi per dimostrarlo, ma ad oggi nessuno ci è ancora riuscito. Un altro problema che ha reso Tao celebre è quello di cui Erdos ha detto la matematica non è ancora pronta per questo tipo di problemi. Il problema è questo. Prendiamo un numero qualsiasi, a patto che sia positivo e sia un numero intero. Se l'abbiamo scelto pari, dividiamolo per due. Se invece l'abbiamo scelto dispari, moltiplichiamolo per tre ed aggiungiamo uno. Questo problema è noto come congettura di collatz. È vero che da qualsiasi numero si parta, a patto che sia intero e positivo, prima o poi, dopo un numero più o meno lungo di passaggi, si finirà sempre al numero uno? Terence Tao è riuscito a dimostrare che per quasi tutti i numeri le sequenze generate usando questo procedimento sono sempre limitate. Cioè non esplodono mai in maniera incontrollata. Si mantengono sempre entro certi limiti. Questo è un notevole passo avanti che ci fa pensare che sia proprio vero che applicando il procedimento della congettura di collatz, tutti i numeri, prima o poi, vanno a finire nel numero uno. Quando ero piccolo, sapevo che volevo diventare un matematico, ma non avevo idea di cosa ciò comportasse, ha detto Terence Tao in un'intervista. In un certo senso, immaginavo che un comitato mi avrebbe assegnato dei problemi da risolvere o qualcosa del genere. In realtà, come lo stesso Tao ha presto scoperto, il lavoro dei matematici ha poco a che fare con le manipolazioni e le memorizzazioni alle quali sono costretti gli studenti. E questo fa accadere delle cose strane. Ad esempio, molti degli studenti bravi, quelli che sperimentano un grande successo durante gli anni universitari, alla fine, non riescono a fare la matematica sul serio e si perdono per strada. L'antica arte della matematica, a scoperto Tao, non premia la velocità, premia la pazienza, premia l'astuzia. L'antica arte della matematica premia quel tipo di dono per la collaborazione e l'improvvisazione che caratterizza i migliori musicisti jazz. Adesso immaginate che l'acqua, all'improvviso, cominci ad ammassarsi su se stessa, fino a trasformarsi in una sorta di supercomputer. Questo supercomputer è molto particolare. È in grado di costruire un robot di acqua autoreplicante. Questo robot trasferisce la sua energia in copie sempre più piccole, sempre più piccole, finché BOOM! Tutta l'acqua esplode. Quello che vi ho appena raccontato vi sembra strano? Per Terence Tao potrebbe essere possibile costruire lo stesso tipo di super robot autoreplicante nel caso delle equazioni di Navier-Stokes. In questo modo si potrebbe risolvere una questione che il Clay Mathematics Institute nel 2000 ha definito uno dei sette problemi più importanti della matematica moderna. E vincere così un milione di dollari. Ad oggi ancora non sappiamo se un fluido governato dalle equazioni di Navier-Stokes potrà scorrere senza intoppi per sempre o possa verificarsi un'esplosione in cui accade qualcosa di fisicamente impossibile, come una quantità diversa da zero di energia concentrata in un singolo punto nello spazio. Le equazioni di Navier-Stokes furono scritte nel XIX secolo ma non sono ben comprese. Alcuni credono che contengano la chiave per comprendere le correnti oceaniche o per comprendere la diffusione dell'inquinamento atmosferico. Tao ha affrontato il problema da un punto di vista insolito. Ha ipotizzato che l'acqua possa persino trasformarsi in quello che potrebbe essere chiamato un mini supercomputer, trasferendo energia in spazi sempre più piccoli fino ad esplodere. Finora Tao non ha risolto le equazioni di Navier-Stokes. La sua congettura sull'esplosione di un supercomputer acquatico esiste solo in un universo alternativo. Ma, dice Tao, non c'è alcuna ragione matematica per cui non potrebbe funzionare nel mondo reale. E se funziona, sarà strabiliante.